Voglio stare tutti uniti e lottare tutti insieme perché noi manteniamo il paese, paghiamo le tasse. Noi siamo persone che danno valore al nostro paese e al turismo del nostro paese. Non è possibile che noi non possiamo vendere alimenti, panini, pizze, piatti di pasta e poi si vendono sugli autogrill, si vendono nei centri commerciali. Rimandano le aperture di settimana in settimana. Questo non è un vero lockdown, siamo chiusi solo in pochi, solo in pochi stiamo soffrendo. Avete messo intere famiglie sull'astrico, avete messo intere famiglie condipendenti, intere famiglie senza dipendenti, famiglie che non sanno come vivere, pieni di debiti. Vi avete promesso dei sostegni, dei ristori, avete dato l'elemosina. L'elemosina a delle persone che lavorano da più di 40 anni. Lavoro, 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 lavoro. E che ci fanno passare per delinquenti, ci stanno buttando il futuro dell'Italia in rovina, i nostri dipendenti, l'economia italiana. E che ci fanno passare per delinquenti, l'economia italiana. Grazie a tutti. Libertà, 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 libertà.